Signori siamo connessi a Starlink Salve! Mi trovo attualmente nella casa dove sono nato e cresciuto perché qua siamo ubicati letteralmente nel nulla in mezzo al verde E da quando sono nato c'è il problema di internet Ecco finalmente il buon Elon Musk con Starlink ci è venuto incontro Dopo vi faccio tutta la spiegazione completa su come funziona, perché i satelliti, non i satelliti, il progetto Ma adesso è tempo di unboxing perché non sto più nella pelle Andiamo ad aprire Ok, allora, tutto molto minimal, abbiamo queste tre semplici istruzioni Attaccare la spina e il modem, wifi Ok, togliamo anche questo C'è un sacco di roba Questa è la situazione con la parabolona, il piedistallo, alimentazione con tutto il cavo, cavo ethernet e modem Dovrebbe essere tutto molto completo nel senso che si collega, si attacca la spina, si piazza la parabola verso il cielo, lei si sette in automatico, fa tutto lei e arriva magicamente internet Allora, piedistallo, l'alimentatore che ha collegato un cavo di una ventina di metri penso che arriva fino alla parabola E un altro cavo che va fino al modem Sì, ok Dulcis in fondo abbiamo la nostra parabola Ok Quindi facciamo così Tac E tac Signori, ecco a voi Starlink La parabola come vedete in realtà è piatta Adesso non vorrei entrare nel tecnico però il concetto è che lei non deve puntare uno specifico satellite geostazionario o chissà che altro che rimane sempre fermo Lei va a prendere tutto un campo visivo e va a collegarsi ogni volta a un satellite diverso che passa E questa è la vera rivoluzione E niente, prima di continuare però, rapida spiegazione di che cos'è Starlink e come funziona perché se no non capite niente In breve Starlink è il progetto di SpaceX, l'agenzia spaziale di Elon Musk, di portare internet via satellite ad alta velocità ovunque Ora, perché tutto questo è rivoluzionario? Attualmente oltre alle classicissime connessioni via cavo o fibra esistono già connessioni satellitari Cosa succede però? Sfruttano dei satelliti geostazionari che sono lontanissimi dalla Terra, sono a 36.000 km Perché ciò avviene? Perché appunto un satellite lontanissimo riesce sostanzialmente a coprire un sacco di superficie E con pochi satelliti si riesce a coprire tutto il mondo Due problemi però Punto numero uno, banalmente la strada che devono fare i dati è tantissima Perché sono 36.000 km avanti e indietro e quindi si ha un sacco di latenza Punto numero due, capite benissimo che se i satelliti sono pochi non è che ci possono passare chissà quanti dati O comunque non possono venire serviti così tanti utenti Ecco, la rivoluzione di Starlink sta nel numero di satelliti nella loro altezza Infatti l'idea è di mandare centinaia, anzi migliaia, anzi decine di migliaia in futuro Di satelliti in orbita bassa Che vanno a formare un vero e proprio sciame, una vera e propria rete E comunicando tra di loro permettono fondamentalmente di portare internet ovunque Quindi tantissimi satelliti, possibilità di spostare tantissimi dati A una distanza solo di qualche centinaio di chilometri E quindi con una latenza sulla carta anche molto più bassa Fondamentalmente riempiendo il cielo di questi mini satelliti Questa è l'idea, che poi sono mini rispetto ai satelliti geostazionari che pesano tonnellate e tonnellate Per intenderci parliamo comunque di satelliti di 250 kg Con dei pannelli solari una volta aperti di 2 metri per 8 Attualmente ce ne sono in orbita circa 1500-1600 in orbita bassa a 550 km circa Ne stanno venendo lanciati più o meno a botte di 60 una volta ogni 2-3 settimane E il goal di Elon sarebbe di raggiungere i 12.000 satelliti entro il 2025 Fa impressione perché se vi scaricate una di quelle applicazioni che possono permettervi di vedere i satelliti Già adesso vedete satelliti Starlink ovunque E a proposito di applicazioni, a proposito di internet Colgo l'occasione per presentarvi lo sponsor del video di oggi Che cade a fagiolo Ed è NordVPN Anzitutto che cos'è una VPN? È una Virtual Private Network Ed è un servizio che permette di navigare in modo sicuro Proteggendo le vostre attività online e i vostri dati personali Il vostro traffico internet viene criptato E viene fatto passare attraverso gli oltre 5200 server Situati in ben 59 paesi in giro per il mondo Permettendovi di accedere al web senza esporvi in prima persona Direttamente da NordVPN si può scegliere il server a cui connettersi Tipo, che ne so, la Francia E in pochissimi secondi con un click Tac, siamo già connessi alla VPN Perché tutto ciò è utile? Anzitutto per tutelare la privacy Soprattutto quando si usano reti non protette tipo wifi pubblici E per sfruttare i vantaggi che si possono avere in altri stati Come per esempio fruire particolari contenuti multimediali Per esempio io lo uso quando sono all'estero Per vedere cose che potrei vedere solo in Italia Poi c'è tutto il discorso legato alle prenotazioni Perché ogni tanto i siti fanno un po' i furbetti E sfruttando una VPN Si riesce ad accedere a biglietti aerei o hotel A prezzi vantaggiosi L'ultimo volo che ho preso per l'Africa Grazie a NordVPN Sono riuscito a pagarlo 600 euro in meno Dulcis in fundo utilizzando NordVPN In automatico vengono bloccati i siti di phishing Malware, spyware E quindi siete sicuramente più sicuri Dal link che vi lascio qua sotto in descrizione Avrete il 70% di sconto sul piano biennale Più 4 mesi gratuiti aggiuntivi A poco meno di 3 euro al mese Quindi ottimo In più potete provarlo senza rischi Grazie alla prova 30 giorni soddisfatti o rimborsati Appunto dal link qua sotto in descrizione potete verificare tutto Quindi appurato come rendere sicure le vostre connessioni Appurato che cos'è Starlink e come funziona Vediamo come si fa la configurazione Allora primissimo passo dell'installazione Scaricare l'applicazione di Starlink Della quale anzitutto si verifica la posizione Dove effettivamente mettere la parabola Si possono appunto verificare gli ostacoli E sostanzialmente inquadrando il cielo In realtà aumentata Vedete tutti questi pallini verdi Sono lo spazio di cui abbiamo bisogno Scansioniamo tutto Vediamo i risultati Qua ovviamente siamo un po' coperti dagli alberi Quindi eccolo qua In questo caso mi dice appunto di cercare un punto migliore Perché potrebbe esserci una perdita di connessione ogni 22 minuti E questo che vedete è tutto il campo visivo di cui abbiamo bisogno Andiamo in terrazzo Proviamo da qua Oh Nessun ostacolo rilevato Questa è un'ottima posizione per installare la tua Starlink Per il momento vediamo di fare un qualcosa di provvisorio in questo angolo Poi probabilmente andrà a finire sul tetto Se penso che sopra di qua ci sono un sacco di piccoli satelliti Starlink Che stanno passando È fichissimo Allora sistemazione provvisoria con queste fascette è bella stabile però Almeno la proviamo Anche perché i vari altri accessori di fissaggio ci sono sul sito di SpaceX Però non erano ancora disponibili quindi non ho potuto prenderli Adesso lo attacchiamo alla corrente E in teoria lei già si sposta e inquadra la porzione di cielo corretta E dovrebbe funzionare tutto Troppo semplice per essere vero Allora colleghiamo la parabola all'alimentatore Tac Attacchiamo il tutto alla spina Tac Qua c'è già il suo modemino che dovrebbe essere già configurato Ok ci connettiamo al wifi Configuriamo il modem Signori siamo connessi a Starlink La parabola intanto si sta effettivamente girando È fighissima questa cosa in automatico appunto lei punta il cielo Allora sono passati circa 40 minuti All'inizio faceva un po' di fatica Andava online offline online offline Stavo quasi iniziando a perdere le speranze Visto che comunque siamo ancora in beta Ma soprattutto siamo in Italia e le cose non funzionano mai Invece poi lei si è aggiustata ancora un pochettino Si è leggermente inclinata Ha iniziato a tracciare i satelliti giusti Le cose giuste Sul sito di Starlink c'è scritto che possono volerci fino a 12 ore Per avere un'ottimizzazione ottimale Fatto sta che già adesso dopo meno di un'ora Stiamo letteralmente volando Comunque la parabola fa un leggero sibilio E ogni tanto qualche micro aggiustamento lo fa ancora Probabilmente perché è ancora in fase di setup Tra l'altro interessantissimo è il fatto che comunque In pochi minuti scaricando un'applicazione Facendo due cose Attaccando una spina Hai già la connessione Cioè è proprio rivoluzionario anche sotto questo punto di vista Immaginatevi appunto in posti lontanissimi Sperduti nel deserto O chissà dove altro Prima di vedere però come si comporta effettivamente Starlink Che velocità e quant'altro Volevo fare qualche considerazione Punto numero uno Siamo appunto in beta Però già da quello che ho visto Questa cosa veramente può rivoluzionare il mondo di internet Cioè l'idea di Starlink è riuscire a portare internet ovunque Che sia in mezzo all'oceano, nel deserto Soprattutto nei paesi dove non c'è l'infrastruttura che abbiamo qua noi Con fibre, cavi e cose ovunque Capite quanto può essere rivoluzionario Tutto incredibile, tutto wow No, ci sono anche numerose problematiche Una su tutte l'inquinamento spaziale che si sta creando Perché ok che c'è un sacco di spazio nello spazio Ok che poi si possono mettere i cosi sulle varie orbite e quant'altro Però stiamo parlando di decine di migliaia di cosi in orbita Nella possibilità invece di guasti e di disastri vari Potrebbe succedere quella che in gergo tecnico viene definita Sindrome di Kessler Ovvero che un satellite distruggendo un altro satellite Crea un sacco di detriti Che vanno sostanzialmente a creare una nube di piccolissimi detriti Velocissimi e potenzialmente distruttivissimi Che vanno a distruggere sostanzialmente tutto quello che c'è in orbita Non permettendo di mandare più niente in orbita né umani né satelliti E distruggendo tutto quello che c'è In questo momento se non avessimo i satelliti non avremmo metà delle tecnologie che usiamo Da internet alle chiamate ai GPS Un bot di roba Quindi bisogna stare molto molto attenti all'inquinamento spaziale C'è tutto il discorso che appunto i satelliti sono programmati per autodistruggersi e tutto quanto Però insomma da non sottovalutare Punto numero due Inquinamento luminoso A parte quelle che sono le nostre osservazioni Infatti gli Starlink si possono vedere anche a occhio nudo Ma soprattutto sono molto visibili quando vengono lacciati Perché sono tutti in fila Solo una volta sono riuscito a vederli ed è stato fighissimo Fighissimo Eccoli Uno, due, tre, quattro, cinque, tutti in fila Fighissimo Wow Però se della nostra vista ce ne importa poco Il problema potrebbe essere un inquinamento visivo per quanto riguarda le osservazioni astronomiche Se si deve osservare lo spazio e si ha un sacco di oggetti in mezzo è un problema Soprattutto se poi bisogna identificare magari dei meteoriti o chissà che altro che potrebbe essere un pericolo In teoria piazzando invece dei telescopi in orbita non dovrebbero esserci grandi problemi E comunque SpaceX sta lavorando per renderli meno riflettenti con una speciale vernice e quant'altro Terzo problema Di fatto saremo davanti sempre di più a un monopolio Nel senso che il nostro amico Elon Zitto zitto Si sta prendendo l'egemonia dello spazio E sta iniziando ad avere il controllo totale potenzialmente su internet Eh Diciamo che soprattutto se questo signore impazzisce Potrebbero esserci problematiche non indifferenti Che poi in realtà ci sono altri progetti simili di Amazon e della Cina Di costellazioni in realtà con meno satelliti ma con lo stesso principio Il punto è che Starlink è veramente tanto 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 avanti Hanno in questo momento un'egemonia totale Quindi boh staremo a vedere se diventeremo tutti parte della dittatura di Elon Musk Perché sì è un genio, sì è un grande, sì è un rivoluzionario Ma l'abbiamo visto anche delirare un pochettino ogni tanto Ad ogni modo tutto molto bello ma so che volete sapere se funziona sta roba Allora speed test al volo, Starlink, iPhone, non c'è trucco, non c'è inganno Abbiamo un 71 di ping, 70, 80, 90, 150, 160 in download e un 28 in upload Eh Questa roba qua è impressionante ragazzi Ovviamente sono valori bassi rispetto a quelli che sono quelli della fibra In studio da me ho la gigabit e vado 5 volte più veloce Però per posti tipo qua è la svolta Cioè la connessione cablata della telecom va tipo a un mega e mezzo Il buon Elon Musk arriva 100 volte più veloce di telecom Non ha alcun senso questa cosa qua E la cosa assurda è che quella piccolina lì si può mettere letteralmente dove si vuole Anche in mezzo al nulla si prenderà internet Cioè non so se state capendo quanto questa cosa qua è rivoluzionaria Adesso comunque faccio un po' di speed test così abbiamo un po' di dati Poi torno a Milano e lascerò i miei genitori a continuare a testare la connessione E se riesco faccio anche qualche test più specifico Sarebbe interessante poi capire cosa succede quando piove Quando nevica è un casino perché deve andare sicuramente a togliere la neve Con tante tante nuvole dovrebbe fare un po' di fatica però boh Ok ho fatto un bel po' di speed test Di base in download andiamo dai 60-70 fino ai 200 Con una media di 120-150 Mentre l'upload è dai 20 ai 30 di media Questa non è una connessione che nasce per il gaming Perché appunto ha un ping molto molto più alto di qualsiasi cavo Per il momento ovviamente poi quando ci saranno migliaia e migliaia di satelliti Sulla carta potrebbe essere anche più veloce dei cavi Il succo è siamo ancora lontani dalla connessione via cavo Per tutte quelle cose tipo il gaming a livello pro Dove è importante avere appunto meno 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 latenza possibile Ma siamo molto più avanti rispetto alle altre satellitari E sicuramente messi molto meglio di tanti doppini in rame Che nelle parti rurali dell'Italia purtroppo portano ancora la connessione Sì tutto molto bello ma quanto costa la baracca Per ora i costi sono decisamente elevati Perché la parabola quindi il costo iniziale è di 500 euro E poi abbiamo un costo mensile di 100 euro Che ovviamente per un uso normale non so quanto senso abbia Ma per un uso professionale appunto sei l'unica alternativa Ormai internet è praticamente fondamentale Quindi ci può stare Ovviamente come tutte le cose più viene utilizzata Più i prezzi si abbassano Più la tecnologia migliora e così via Detto questo però dal nostro Starlink era tutto Adesso poi verrà fissato Faremo tutti i test del caso Se volete rimanere aggiornati Seguiteci su Instagram Dove metterò tutti gli aggiornamenti vari Magari arriverà qualche test più specifico Qualche cosa più strana Chi lo sa E niente io era un po' di tempo che non ero così eccitato per un prodotto Perché sì è una banale parabola Sì è una banale connessione internet Però questo cambia veramente tutto E soprattutto finalmente a casa mia posso definire Di avere una connessione degna del 2021 Ci vediamo alla prossima comunque Ciao 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 ciao